Chi sei e cosa fai? Sono Daniele e mi occupo di Agile, sono Scrum Master. Nome con il quale ti chiamano i Develeriani? Gendo. Il tuo ruolo in poche parole? Aiuto i team ad adottare metodi agili per lavorare meglio. Una parola per descriverti? Nerd. Cosa ami di più dell'essere un Develeriano? Mi piace molto che mi diano libertà e spazio creativo. Cosa ti soddisfa di più del tuo ruolo? Che posso veramente aiutare le persone a stare meglio, a essere meno stressate, a produrre di più ed essere più contente. Il piatto che cucini meglio? La carbonara, col guanciale. Pizza o sushi? Sushi. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Direi il set completo del nerd d'anni 90. Giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte. I miglior videogame di tutti i tempi? Shenmue. Il progetto preferito su cui hai lavorato? Un sistema cloud che stiamo costruendo nel mercato della calzatura, del taglio pelle. Film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita? The Wall of the Pink Floyd. L'eroe che ami di più? Christopher Hitchin. Oltre al tuo ruolo professionale, fai parte di qualche altro team in Develer? Collaboro con le risorse umane, onboarding, recruiting. Gendo Ieri e Gendo Oggi? Gendo Ieri sicuramente entusiasta, molto ingenuo, molto inesperto. Gendo Oggi ancora entusiasta, ma spero un po' più esperto, un po' meno ingenuo su tante cose. Cosa avresti fatto se non fossi entrato nel campo della programmazione? Lo storico. Un racconto inedito di Develer? Correva l'anno, 2010, anni fa insomma, un LAN party notturno dove ho stracciato un paio di miei colleghi e non l'hanno mai detto a nessuno. Il tuo talento nascosto? Sto provando a imparare a suonare la tastiera. La tua più grande soddisfazione in Develer? Qualche anno fa mi è stato dato un team un po' difficile, con un cliente un po' problematico e abbiamo fatto squadra, abbiamo risolto i problemi e ce l'abbiamo fatta. Quando hai capito di voler lavorare come Scrum Master? Quando ho capito che molto spesso, quasi sempre nei progetti, la parte più difficile è l'organizzazione e non è la parte tecnica. Una skill che ti piacerebbe imparare? Mi piacerebbe imparare a cucinare la carne. Un consiglio per qualcuno che vuole diventare Scrum Master? Ascolta il tuo team e fidati di loro. Completa la frase, Develer è? Una famiglia divertente in cui vivere.